ciao amico bentornato con il nostro consueto appuntamento quel paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo un ragazzo notava un volto apparire all'improvviso in mezzo ad alcuni cespugli di un albero il ragazzo prontamente riprende quella strana figura col suo smartphone ciò che viene ripreso è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento il prossimo filmato è stato ripreso da un taxista l'uomo è in attesa di un suo cliente mentre aspettava nota una strana figura incappucciata la strana figura rimane immobile di fronte al taxista che non può far altro che riprendere quell'episodio ciò che viene filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento ciò che si è leggero www.media.inp.inp.inp.inp.inp.inp.inp.s 2.5 I ragazzi entrano in un cimitero di notte. Durante la loro passeggiatina in questo cimitero registrano delle strane voci, accompagnate da una risata diabolica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.